Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quarta corsa Sgabbia in leggero ritardo la debuttante Sopran Bohemia ma il gruppo è comunque già sfilacciato Il più veloce, quello che ha colto una migliore partenza è I Wanna Buddy che si trascina in seconda posizione Soul of Race, in terza al suo esterno scorgiamo la figura di Piccola Ela che lascia in quarta posizione Notte Stellata Dietro a questi c'è anche l'altro gruppo formato da proiettile, poi Jiggs Princess che ha il suo esterno del toro Alle spalle di questi anche Korgos poi con Me Contro Te, il favorito Love Yourself che in questo momento è in terz'ultima posizione Rispetto ancora a Once, You Pon A Time e poi il resto del gruppo chiuso da Sopran Bohemia Siamo già addirittura ad arrivo, la messa sul ritmo è I Wanna Buddy che ha in vantaggio di circa tre lunghezze nei confronti di Soul of Race Che si getta all'inseguimento insieme alla stessa Piccola Ela, percorsi interne ci va Proiettile, il debuttante ancora più all'interno Prova a risalire anche il favorito Love Yourself che in questo momento è abbastanza lontano Ma comunque quelli davanti hanno speso tantissimo, in particolare è Wanda Buddy la quale è comunque ancora in vantaggio nei confronti di Soul of Race Si mette sulle gambe anche Proiettile, all'esterno c'è la stessa Piccola Ela Poi Del Toro, ancora Love Yourself, Jix Princess con Soul of Race che va all'attacco di Wanda Buddy Questi due che si staccano in lotta con Wanda Buddy in vantaggio nei confronti di Soul of Race Una lotta bellissima fin sul traguardo ma Wanda Buddy dovrebbe aver mantenuto qualcosa Dobbiamo rivedere comunque lo stretto Al terzo posto è rinvenuto Korgos Ma sono vicini a Wanda Buddy e Soul of Race Vediamo chi è riuscito ad emergere Con tempi di galoppo differenti E Wanda Buddy che insomma se l'è fatta da un capo all'altro indipendentemente da com'è andata In sella Salvatore Sula scontro Carlo Fiocchi che era in sella Soul of Race Vediamo un po' Qui Soul of Race sta insidiando Vediamo perché può essere pure che l'ha giustiziato proprio a fil di palo Ripeto è una questione di tempi di galoppo Qui è veramente difficile perché proviamo ad andare un attimo indietro se possiamo con la nostra regia Terzo posto sicuramente per Korgos I protagonisti di questo arrivo sono stati 14 e il 4